E bentornati in questo nuovo podcast dove avremo come ospite Anne Atway. No, in realtà no, perché il budget è basso e quindi non ci possiamo permettere interviste di questo calibro, ma comunque andremo a parlare di questa attrice che è possibilmente riconosciuta come la più grande attrice della commedia romantica americana. Ora io vorrei sapere magari se c'è qualcuno che sta ascoltando che non ha mai visto Amore e altri rimedi. Una commedia leggera dalla sceneggiatura molto semplice che ricerca in questo conflitto dove il tema centrale, il soggetto centrale della pellicola è per l'appunto il tema della sfera sessuale e viene introdotto in maniera carina, e molto semplificata e permette, diciamo così, a tutto quanto il pubblico di poter seguire la pellicola con un determinato piacere, ma non che riguardi la sfera sessuale ovviamente, ma un determinato piacere fluido che permette comunque la visione della pellicola in maniera leggera. Non è una pellicola superficiale, ci tengo a sottolinearlo fin dal principio. Come non è superficiale come attrice, per l'appunto Anne Hathaway. L'abbiamo ritrovata un poco, cioè nel podcast precedente quando parlavamo di Meryl Streep, perché lei è anche co-protagonista nel Diavolo Veste Prada del 2006, ma la carriera di Anne Hathaway, che è una new yorkese doc nata a Brooklyn, nel quartiere di Brooklyn, aveva già, diciamo nell'ambito familiare, un desiderio, una fiamma dell'arte che già stava splendendo dentro di lei. Si interessò al mondo dell'arte tramite il nonno. Il nonno era famoso e conosciuto a Philadelphia perché era uno speaker radiofonico di quella zona, in quella determinata zona americana. E poi sicuramente c'è un fattore molto importante, ed è bello sapere questa curiosità. Anne Hathaway a 11 anni aveva accarezzato, cioè più che accarezzato, l'idea di diventare suora. E questa idea farà parte comunque del suo modo di pensare fino ai 14 anni. Quando lei compirà l'età di 14 anni, però c'è un avvenimento in particolare che le farà cambiare idea. Innanzitutto dobbiamo dire che apparteneva a una famiglia molto legata alla fede cristiana. E questa fede cristiana aveva un sapore molto estremista, diciamo, per come veniva affrontata sotto tantissimi aspetti. E quando uno dei due fratelli, perché lei aveva due fratelli, si dichiarerà omosessuale, lei si allontanerà dalla chiesa. Nonostante ciò lei rimarrà una cristiana non ordinaria, cioè non appartiene né al protestantesimo, né al cattolicesimo, ma comunque fa sempre quella fede che aveva fatta maturare da bambina e che la stava spingendo a intraprendere una carriera all'interno del convento. Ora immaginate Enatway all'interno di un convento, già mi viene da ridere, nascerebbe una commedia romantica anche lì dentro. Ma non sarà sicuramente così. Il primo ricordo che io ho artisticamente di Enatway è sicuramente Amore Altegrimedi, che credo che sia del 2010. Anche prima, forse perché non l'avevo riconosciuta nei frammenti o nella recitazione che aveva portato avanti nel Diavolo Veste Prada, ma tantissimi sono i titoli in cui lei è protagonista, o co-protagonista, come i Segreti di Brokeback Mountain, anche qui con Jack Gillegal, Michelle Williams e Heath Ledger, la leggenda storica di Heath Ledger. E poi sicuramente le sue interpretazioni sono molto interessanti, soprattutto sotto la regia di Tim Burton. Ed è bello sottolineare come l'interpretazione che lei fa all'interno delle due pellicole di Alice in Wonderland e Alice attraverso lo specchio. Ora non so perché in Italia vi sia questo fatto che il primo film viene pronunciato in inglese Alice in Wonderland e il secondo è semplicemente Alice attraverso lo specchio, ma lo sentite molto, è semplicemente Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco, lei per la sua fisionomia, per le sue caratteristiche fisiche, rientra perfettamente in quel ruolo e in quella regia molto tetra, oscura del Paese delle Meraviglie. Questo candore bianco che lei emana attraverso la pellicola, sicuramente ci sta in maniera perfetta come scelta artistica. Ma, dicevamo, è la regina assoluta, è la stella della commedia romantica americana perché uno dei primi ricordi che ho delle interpretazioni di Nathway, nonostante questi film, è sicuramente Principe Azzurro Cercasi che è stato massacrato al botteghino ma ha avuto un successo internazionale non da poco. Tra l'altro credo che i film di Nathway siano, ecco, i più adatti alle famiglie. Io vi consiglio anche Lo Stagista, dove c'è un Robert De Niro dolcissimo, dove lei interpreta questo ruolo della dirigente, credo che fosse una dirigente un po' stronzetta, diciamo che riesci a empatizzare molto, più che con lei, con Robert De Niro, assolutamente. Poi, l'ultimo film che ho visto, tra l'altro, è lei nel 2020, credo che abbia fatto il film Streghe, che c'è stata una sorta di critica sotto determinati aspetti, soprattutto per quanto riguardava la fisionomia dei personaggi e anche le caratteristiche fisiche degli stessi, quindi è stato un po', diciamo così, acciaccato anche dalla critica a questo film che già nel 2020 ci troviamo in una situazione economica, politica e societaria veramente in crisi per quanto riguarda il mercato del cinema. Ci mancano solamente le critiche del politically correct, che poi diventano più che altro stupidità immondi all'interno di questo contesto. E poi, sicuramente, dobbiamo sottolineare anche i lavori con Christopher Nolan, il regista del cinema onirico, potremmo definirlo, o delle spy stories oniriche, per certi versi, dove il tema centrale è quasi sempre il tempo. Però lei prende parte alla trilogia di Batman, nell'ultimo capitolo della trilogia, Il ritorno del Cavaliere Oscuro, e poi Interstellar, dove lei ha questo taglio di capelli molto corto, l'interpretazione è buona, sì, ma... Allora, quello che è importante dire su Enato è che le interpretazioni sono tutte buone, che lei fa, ok? Ma quasi sempre non vi è, diciamo così, quel quid in più che mostra la sua vena artistica. Quel quid lo possiamo ritrovare soltanto in una pellicola, tra l'altro è un musical, che era un musical di Broadway, e poi prende spunto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, ed è Le Miserables, i miserabili, per dirlo in italiano. Con i miserabili lavora a fianco di star assolute del musical e della cinematografia americana, come Russell Crowe e Hugh Jackman. E Hugh Jackman lavora a fianco di queste due figure strepitose, e lei addirittura con la sua seconda candidatura all'Oscar, e devo dire che senza addirittura è veramente meritata, vince il premio per l'interpretazione come migliore attrice, non protagonista, con il ruolo di Fontaine. Diciamo che il musical raramente porta a casa Oscar per quanto riguarda le interpretazioni dei vari attori, quindi questo dà molto risalto all'interpretazione che va a fare Enato. Allora, quello che devo dire io su quest'attrice, per quanto riguarda il mio pensiero, il mio punto di vista, è sicuramente uno dal punto di vista centrale per quanto concerne la recitazione. Allora, quello che colpisce di Enantway è sicuramente la fisionomia molto particolare, ha un viso cangiante che si riesce ad adattare perfettamente alle commedie romantiche, ma anche a poter cambiare a seconda del ruolo se è drammatizzato. Il viso dunque è cangiante, è bello il passaggio dal dolce al maligno che riesce a fare, per esempio nell'ultimo film Streghe, che io non ho visto, ho visto dei frammenti però già ci sono lì, attraverso gli occhi si comunica veramente tanto. Ed è molto importante vederlo perché solitamente la gente non comprende che vi è una sorta di differenza. Quando una persona va a teatro ama sentire le parole, vuole sentire le parole più che le azioni, mentre il cinema è una questione visiva perché si sta molto attenti ai dettagli e credo che gli occhi, questi occhi molto grandi, la bocca molto grande, il sorriso enorme, gigantesco e bellissimo di Enantway sicuramente fanno da contorno tutto questo. E poi ha una vita dove prima e seconda natura, come direbbe Stanislavski, cioè lavorano molto bene insieme perché non viene su uno scandalo in cui è stata buttata, non c'è nessun calderone in cui è stata gettata per quanto riguarda la sua vita privata, quindi Enantway, diciamo così, è una persona che riesci anche ad amare fuori dal set, quindi non fa parte di quella crew di attori hollywoodiani che fa da contorno, che si circonda di scandali, ma tutt'altro molto attenta sotto diversi aspetti. È passionale quando vuole come attrice perché riesce a trasmettere attraverso un'empatia molto piacevole il proprio ruolo, certe volte però l'alienazione come nei ruoli con Tim Burton permettono a lei di poter lavorare meglio allontanandosi magari dall'empatia nei confronti del pubblico e a mostrare un aspetto di sé sicuramente migliore. Quando andiamo a vedere le interpretazioni di Enantway possiamo comunque vedere che il fattore che guida comunque l'intera sua filmografia sia sempre la ricerca di una semplicità, una semplicità che le ha mostrato fuori e dentro il set e soprattutto un modo di lavorare molto semplice che si caratterizza o con l'alienazione o con l'empatia. Ricordiamo anche che è stata doppiatrice e si è prestata per giocare in film come Rio 1 e 2 della Dreamworks, ha fatto delle apparizioni mettendosi in gioco e scherzando su se stessa nei Simpsons ma anche doppiando alcuni personaggi all'interno dei Griffin e soprattutto ricordo uno speciale su Star Wars, credo che sia lo speciale Star Wars It's a Trap. Ci vorrebbero più Enantway all'interno del panorama artistico perché certe volte si ricercano cose complesse, si ricercano cose che magari non fanno parte di questo mondo, le risposte stanno sempre non nella superficialità ma nella tranquilla e serena semplicità.